Ok, bene, siamo qua con Davide, il grande Davide Civaschi, detto Cesareo. Come preferisci che ti chiamo? Guarda, visto che mi conoscono più come Cesareo, va bene, così tengo la mia altra identità nascosta. Ottimo. Allora, io intanto volevo... Vedo Cesareo da tutte le parti, quindi uno dirà, ma perché si chiama Davide? Eh, infatti, giustamente. Cesareo sotto. Volevo partire raccontandoti in realtà un aneddoto mio che ti riguarda. Bene. Perché io praticamente gli Elio e le storiettesi li conosco praticamente da, non dico da quando sono nato, io sono dell'87 e gli Elio e le storiettesi c'erano già, giusto? Sì, diciamo che da qualche anno cominciavano a fare i primi passi e da lì a poco avrebbero pubblicato il primo disco. Esatto. Quindi c'è dicembre 89, quindi. Però poi negli anni 90 c'è stato abbastanza un boom e c'era mia sorella che ha 13 anni più di me che andava già ai vostri concerti, quindi io vi conoscevo già, avevo delle cassette originali a casa, delle musiche cassette, soprattutto quella di It, The Fikis, mi ricordo. È successo che dopo tipo 10 anni che io vi ascoltavo e tutto quanto, io avevo tipo 16 anni, 17, che era tipo il 2005-2006. Tu stavi facendo un tour di serate con la Notte delle Chitarre. E praticamente io alla fine del concerto sono venuto da te a chiederti un plettro e io ho ottenuto quel plettro per anni come una reliquia, tipo, che per me eri già, capito? Poi io ero all'inizio con la chitarra, quindi per me era come conoscere un gitariro incredibile. Grazie della stima. No, veramente. Io sono super emozionato in questo momento, insomma, te l'avevo già detto, però per farlo capire anche agli altri. Iniziamo, prima di parlare anche del perché siamo qui a parlare io e te, volevo cominciare parlando un po' di attualità, tirar fuori degli argomenti di attualità per sapere cosa ne pensi tu di certe cose. Perché io mi sono reso conto, cioè negli ultimi anni ero lì che dicevo, ma mi sembra che stiano succedendo delle cose che sembrano rivoluzionarie e poi in realtà le storie tese negli anni 90 le avevano già fatte, tipo, non so. Poi in realtà non è che l'hanno fatto per copiarvi, ovviamente, però è una cosa strana, nel senso, per esempio, lo so, Achille Lauro, come tu stesso hai detto, che si veste in questo modo a Sanremo, insomma, voi avete fatto anche molto peggio negli anni 90 e, per esempio, come è successo adesso con il concerto del primo maggio di Fedez, che si è ne ha parlato parecchio, a voi era successo nel 1991. Quindi, primo, volevo chiederti sia cosa ne pensi di Achille Lauro e sia, in generale, o anche del modo trasgressivo di vestirsi in ambienti istituzionali come quelli di Sanremo e poi cosa ne pensi di quello che è successo a Fedez, se puoi e se vuoi, insomma. No, no, ma io parlo in libertà, non ho niente di cui vergognarmi o non mi voglio censurare su niente. A me Achille Lauro su alcune cose piace, oltretutto il fatto che lui faccia suo il festival di Sanremo, come l'abbiamo fatto noi, nel senso che noi siamo andati a Sanremo per sfruttare Sanremo, che è la miglior cosa che si può fare nel festival, dove c'è la maggiore esposizione, che equivale a due anni, se giri come un pazzo a fare radio, cioè neanche in due anni fai quell'esposizione che fai in quattro giornate con milioni di telespettatori. Quindi è sacrosanto cercare di spremere quello spazio in diverse maniere. Lui ha usato quella del travestimento che è quella che abbiamo appunto usato noi in tutte le edizioni, poi, tra l'altro. Non è che ce n'è stata una più tranquilla o meno creativa da quel punto di vista. Quindi mi ha divertito. Se voleva ottenere qualcosa ha ottenuto attenzione. Poi il pezzo può piacere o non piacere. Non credo neanche lui sia in grado di sostenere o portato un capolavoro a Sanremo. Forse neanche noi possiamo dire questo, però abbiamo cercato sempre di comunque portare una canzone che non aveva mai sentito nessuno a Sanremo. Mi viene solo in mente gli esempi più clamorosi che sono la terra dei cachi, che era anche una denuncia abbastanza politica della nostra nazione, della nostra Italia di quegli anni che purtroppo è cambiata di molto dal 96 a oggi. E la mononota, che per assurdo forse è l'esempio più clamoroso. Vai al festival della canzone italiana che nel mondo è conosciuta come la melodia assoluta. E noi andiamo con una canzone che ha una nota solo all'interno. Quindi diciamo che noi abbiamo avuto un bel coraggio, benvenga che ci sono altre persone che hanno voglia di prendere il festival anche non sotto gamba, anzi è il contrario. Quando ti impegni così è perché lo vuoi sfruttare al massimo. Secondo me è l'unica maniera per andarci e perché valga la pena partecipare. Perché poi invece al contrario, come vedi, è una mannaia. C'è gente che va nel dimenticatoio e ancora io adesso forse faccio fatica a ricordarmi chi ha vinto l'ultimo. Ecco, Fedez l'ho detto, lo ripeto con grandissima tranquillità. È un ragazzo molto intelligente, ha saputo sfruttare benissimo tutti i suoi passaggi di crescita artistica. Adesso è una potenza anche per altri motivi che non sto a sottolineare, ma sono conosciuti a tutti. Perché ha una famiglia, una bella famiglia insomma, che ha un bel potenziale. Dico solamente che, ma dico la verità, cioè ve lo potrei dire davanti a lui. Cioè quando siamo andati al primo maggio noi abbiamo fatto una denuncia, forse che abbiamo rischiato anche di andare sotto qualche lago con un peso di cemento legato, perché ci siamo scattinati addosso alla potenza proprio della politica italiana. Abbiamo fatto delle denunce molto pesanti, tra l'altro carte alla portata di tutti, non è che abbiamo fatto lo scoop. Però avevamo tutto da perdere, tutto da perdere. Pensate, gli eliole storitesi di allora erano giovanissimi con un disco d'esordio che invece di andare a promuovere il proprio disco e fare quello che avrebbero fatto tutti, abbiamo rischiato, come ci disse l'allora dirigente RAI, voi non comparirete mai più in RAI, questo non è successo. Ma siamo stati veramente coraggiosi, anche per l'età, insomma. Eravamo veramente dei giovani allo sbaraglio e invece di cavalcare la notorietà di quel momento, cioè di portarsi a casa il primo maggio, oltretutto mi sembra che era solo la seconda edizione, e quindi era una cosa molto grossa, molto attesa. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto rischiando tantissimo. Ma era più in coscienza o l'avete fatto con proprio coscienza di quello che rischiavano? Abbastanza in coscienza per non prevedere che potevano veramente chiudere per sempre la porta a qualunque altra cosa. E invece anche voglia, come è sempre stato e come è, e negli Elio delle Storie Tese facciamo sempre quello che non hanno fatto gli altri, quindi non ci andava di andare a fare il solito sprolocchio falso, disinteressato, cioè assolutamente inutile gratis sul lavoro, sui lavoratori, perché tanto nessuno di quelli che va al primo maggio pensa al valore di quella giornata che invece è molto importante, perché se pensi che è la festa del lavoro fa anche ridere. Tra l'altro, tornando al discorso di Achille Lauro, adesso non vorrei dire una bestemmia, però mi sembra molto che ci sono dei punti d'incontro musicalmente tra quello che era il Vasco degli anni Ottanta. Molto, te l'avrei detto da qui a breve, è molto Vasco. Sei d'accordo con questo? Sì, però anche lì di Vasco ce n'è uno. Già il fatto che lo paragogniamo a Vasco lo paragogniamo a una cosa che già... No, ma non è neanche un insulto, preferisco che mi faccia ricordare quelle atmosfere. Io adoro Vasco in assoluto, anche perché poi ho vissuto momenti che per conseguenza mi afficinavano molto a lui, perché ho lavorato anni con Massimo Riva, proprio insieme a lui andavo a Zocca, andavo nello studio di Vasco, eccetera. Quindi adoravo già Vasco Rossi e poi col fatto che ero entrato un po' più in maniera diretta nel suo ambiente, nella sua atmosfera, mi piaceva ancora di più, soprattutto perché lavorando con Massimo mi ero accorto il valore e l'importanza che aveva Massimo all'interno dello staff di Vasco. E' come quando un chitarrista bravo viene da me o da te e tu gli puoi dire però bravo, sembri Satriani, ma nel momento in cui gli hai detto così gli hai fatto un complimento e dall'altra parte e adesso cerca di fare qualcosa di nuovo, perché lui c'è già. Poi tu punti molto su questa cosa quando parli ai chitarristi. Ma mi sembra tutti uguali adesso. Ormai non c'è uno che se vedi anche la prima immagina del video che abbia una mano qua. No, sono già tutte qua, sono già tutte qua due. Di default partono da qua. Tu conosci Nanu War of Steel? Già sentite. Quelli della canzone Giorgio Mastrota per esempio. Sì, sì, sì. Ti faccio una domanda che ho fatto anche al chitarrista Valerio dei Nanowar che è quando fai della musica con del testo ironico ma musica fatta bene è difficile farsi prendere sul serio e quando le persone hanno cominciato a prendervi sul serio come dei bravi musicisti o se magari non è ancora così? perché è sempre una cosa molto strana questa cosa che tutti quelli che fanno magari cose ironiche vengono presi un po' alla leggera ma quasi sempre sono sempre ottimi musicisti quelli che fanno perché come dicono spesso per far ridere bisogna anche... Guarda, secondo me, e non me la prendo più, siamo destinati comunque a essere presi un attimino sotto gamba ecco, diciamolo così noi siamo rimasti e forse per tanti rimaniamo un gruppo demenziale questo termine meraviglioso non posso pretendere che anche la gente semplice che ascolta la musica possa andare così nel dettaglio e capire certe sfumature non voglio neanche preoccuparmi io quando vado al cinema di capire qual è lo sforzo per una certa scena che vedo che per me mi sembra una scena di un film come tanti film e l'altro mi potrebbe spiegare no perché c'è stata una ripesa unica cioè poi tutte quelle cose che mi va a spiegare io le posso apprezzare ma al momento non le colgo e non voglio pretendere quello da chi ascolta musica non lo pretendo mi infastidisco ecco se ci sono dei giudizi così a gratis esatto un po' buttati lì ecco cioè il fatto che qualcuno possa avanzare perché noi non ci teniamo alla musica e siamo solamente sboccati e beh questo è falso proprio perché per rendere credibile un testo leggero come Spalman invece noi cerchiamo di metterci sotto una tessitura musicale che sia inattaccabile come abbiamo cercato di fare in tutte le nostre canzoni quindi quello sì però alla fine mi rendo conto che solo io e te ci accorgiamo quando uno è in plebe con O che è già grave perché qualcuno pensa che è bravo senti come canta bene è perfetto sembra il disco non c'ho voglia neanche di andargli a spiegare che sta facendo finta quindi se non riusciamo se la maggior parte di persone non riesce a cogliere queste sfumature io non voglio neanche pretendere che ne colgano altro oltretutto pochi giorni fa mi sono permesso da giocatore appassionato di videogiochi di sollevare l'argomento come mai vi siete sempre lamentati del costo dei cd e nessuno si lamenta dei videogiochi che oltretutto se io penso vent'anni fa forse il cd costava come adesso mentre il videogioco si è triplicato quindi ci sono tante varianti che però poi portano un punto solo nessuno sarà mai d'accordo con l'altro quindi ognuno dà la sua propria opinione si fa fatica certo a essere un gruppo che cerca di fare ironia tant'è vero che Zappa che è Zappa non ha fatto i numeri che potevano fare i Guns N'Roses perché è un settore, una musica che appassiona però non tutti noi non abbiamo mai avuto voglia di fare delle cose da grande pubblico solamente per fare il pezzo orecchiabile poi magari ci siamo riusciti te lo giuro quasi involontariamente infatti è giustissimo sono d'accordissimo su quello che dici tu che non pretendi che le persone sappiano certe cose perché giustamente la tecnica deve essere al servizio dell'arte di quello che vuoi comunicare però neanche che uno dia per scontato che uno non sia capace perché fa cose però veramente mi sono messo il cuore in pace perché spiegare quanto è semplice fare un concerto con un autotune con una base sotto dove tutto andrà perfettamente fino al momento in cui malauguratamente non va via la corrente però di solito non succede e invece il fatto di fare quattro settimane di allestimento di prove per riprovare dei pezzi molto complicati per cercare di fare uno show che non sia solo una scaletta di un pezzo dietro l'altro io non ho voglia di spiegarlo se vieni al mio concerto poi apprezzerai se vai invece al concerto del trap impazzirai libero siamo liberi fortunatamente speriamo di esserlo ancora e quindi aperto a tutto però a questo punto su certe cose mi arrendo parliamo di chitarra dato che per la maggior parte ci ascolteranno musicisti e chitarristi soprattutto allora tu sei al 90% autodidatta avevi detto sì forse di più anche di 99% fino all'ultimo centesimo se ti guardi indietro cosa è che pensi che abbia fatto la differenza dato che comunque hai raggiunto dei livelli molto importanti per comunque un autodidatta perché è vero che è possibile da autodidatta arrivare a certi livelli però è anche comunque difficile quindi cosa secondo te che ha fatto la differenza nel tuo caso cioè in positivo in positivo ma forse cercare di di trovare una mia strada cioè da autodidatta io come libri visto che c'è anche una fortunato a te una bella differenza di età fra me e te mentre tu sei nell'imbarazzo della scelta di una scuola di musica se volessi farla tu o se volessi consigliarla quando ero un ragazzino io non esistevano quindi c'era solo conservatorio o jazz che erano due indirizzi che non mi interessavano quindi i miei libri di scuola visto che neanche la musica stampata era granché e neanche era l'epoca del web di internet che non esisteva i miei libri di scuola potevano essere solo i dischi mi ha salvato in questo il fatto che ho sempre spolpato cercato di capire cosa ascoltavo e non replicarlo a memoria e basta quindi qualunque chitarrista ascoltavo lo analizzavo dal punto di vista proprio dell'esecuzione cercando di rubargli delle cose ma soprattutto poi di farle mie non so ti rubo la macchina però gli cambio le gomme e il colore così la rendo mia come voglio io con l'assetto che voglio io un po' era quello e quindi ho cercato di sviluppare una tecnica mia soprattutto appunto non fossilizzandomi su un solo chitarrista perché poi ho capito ma lo capisco anche facendo le lezioni di chitarra che faccio con i ragazzi che un po' un po' tanti cesarei ci sono e vorrei invece che non lo fossero tant'è vero che la mia tecnica è quando sono in grado di camminare con le loro mani e poi li mollo anche se protestano perché se no non si costruiscono un loro stile cioè non devono essere dei cloni ecco io non ho voluto mai essere nessun clone di nessun chitarrista che ho adorato e adoro cioè io sono partito con i Beatles con i Rolling Stones Peter Frampton Aerosmith di Purple e le Zeppelin e andando avanti dagli Europe a qualcosa anche di estremo tantissimo rock sudista avevano nelle formazioni sempre due o tre chitarre quindi mi piaceva studiare anche come far convivere due chitarre in una stessa band senza per forza che tutti e due facessero le stesse cose per esempio nel rock sudista dove ce n'erano due se non tre vedi Eagles mi piacevano quegli incasteri cioè mi piaceva la chitarra che diventava quasi uno strumento orchestrale cioè che era obbligato a trovare un suo spazio senza fare ripetere le parti di altri forse questa è stata la fortuna anche gli Elio Restorettese ovviamente mi hanno aiutato perché abbiamo sempre voluto spaziare in qualunque genere quello è stato anche motivo che certe volte a certi livelli di composizione mi ritrovavo a studiare delle cose che non sapevo bene tipo la salsa che ha sempre l'accento sul due è una cosa che si ha legato sdraiato imbavagliato il faso per me non era così naturale questo conteggio del ritmo anche il fatto di questo genere non lo so molto bene e faccio qualcosa invece mi faceva fermare e dire come si accompagna un reg perché non è che è solo andare a tempo ci vuole una certa portanza un certo peso ho sempre dato fatto attenzione a quello che dovevo eseguire cercando di farlo nel modo giusto e sicuramente il fatto che gli Elio Restorettese siano prevalentemente un gruppo rock però che ha spaziato in tutto perché ci divertivamo facciamo un blues facciamo un pezzo pop facciamo un pezzo un waltzer facciamo il heavy metal il trash metal qualunque cosa quello quello ovviamente a differenza magari di un collega che è destinato sempre a suonare la stessa cosa mi ha aiutato molto cioè nel senso me la cavicchio abbastanza bene su qualche qualunque terreno non sono un jazzista però se ti voglio far sentire una frase che sembra sono capace a proposito dato che hai citato insomma il fatto che lavori con degli studenti se vuoi dire per esempio su cesareo punto academy giusto? si si cesareo academy ma si trova subito adesso fortunatamente innanzitutto academy è troppo come dire però ci tengo sempre è l'estensione del domino è l'unica cosa libera che ho trovato quindi l'ho chiamata così ma intanto ho avuto ho l'occasione di restituire veramente cioè io non sono geloso delle mie cose faccio delle lezioni dando tutto quello che posso dare ho deciso di farlo perché abbiamo con gli eli preso questa pausa perché purtroppo per tanti è stata anche una pausa forzata per ovvi motivi che non stiamo sempre a citare che adesso stanno un po' calando fortunatamente e ho voluto fare una cosa semplice alla luce del sole cioè ti prenoti il giorno che vedi e l'ora paghi già e ti arriva immediatamente la fattura perché non voglio nessun problema sono contento di lavorare di pagare le tasse perché vuol dire che allora grazie e quindi sta andando molto bene tant'è vero che per il momento se uno va non trova date perché mi sono preso una ventina di giorni di pausa perché da quando è iniziato a fine gennaio è stato proprio a tappeto ecco tra l'altro volevo dirti che volevo fare un salto anch'io a prenotarmi per qualche lezione va bene e tornando all'autodidattismo sì qual è invece stata la tua difficoltà maggiore che se adesso ci ripensi dice però effettivamente quella cosa per me è stata più difficile perché era autodidatta e come l'hai superata se l'hai superata forse in certi momenti qualche accordo mi ha buttato fuori strada perché non lo conoscevo l'autodidatta va più molto mnemonico più visualizza ascolta suona riproduce forse la vera cosa la vera cosa che avrebbe potuto servirmi però anche no adesso perché se qualcuno mi chiama in studio ovviamente se vuole il turnista che esegue e fa benissimo chiama un Luca Colombo che legge perfettamente che è bravissimo a suonare se tu mi metti una partitura non leggo una pippa di nulla ma di solito tutti mi chiamano perché vogliono Cesare non vogliono uno che esegue poi ovviamente se mi chiami per esecuzione di una cosa che conosco te la rifaccio eccetera cioè quello che mi manca mi sarebbe una bella lettura insomma leggere per bene uno spartito quello non ce l'ho assolutamente ho conoscenza ma non ce l'ho però siccome ho avuto sempre la fortuna di fare cose mie per il momento cioè o anche per sempre non credo che sarà un problema ecco non andrò ma non ci andrei neanche se fossi un lettore a prima vista a fare il festival di Sanremo come turnista perché non mi piacerebbe come cosa e quindi forse ecco oppure essere chitarrista in qualche orchestrina o qualche gruppo di trasmissioni televisive ok basta forse quello è l'unica cosa che mi ha messo in difficoltà se serviva essere chiamato per fare delle cose scritte quindi più una questione di teoria e armonia esatto esatto ma una cosa che spesso mi dicono a me io parlo con migliaia ovviamente di persone che devono cercare di imparare eccetera e una delle cose che mi dicono più spesso è ma non so ho poco tempo eccetera e tu per esempio hai spiegato che anche quando stavi imparando a suonare o magari avevi già fatto i primi passi però stavi cercando di migliorare comunque studiavi mentre lavoravi eh io sì cosa diresti a una persona che dice che non ha tempo per suonare non so se hai qualche consiglio non so ma allora dipende dalla passione veramente non tanto dall'obiettivo che devi raggiungere la passione e te lo spiega uno che aveva talmente passione per la chitarra cioè che tornavo a casa e stavo ore fino alla notte a suonare insomma lavoravo in un ufficio quindi ho fatto in tempo prima a fare l'impiegato però sempre anche quando facevo la scuola la chitarra era prima in classifica nei miei pensieri e nei miei svaghi ritorno indietro dipende dove vuoi arrivare perché io l'ho fatto per passione senza pensare che un giorno si sarebbe trasformata in una professione quindi io non è a me non non pesava cioè non mi lamentavo eh non ho mai tempo no io toglievo il tempo ad altro per la chitarra e questo mi ha fatto bene cioè io addirittura per divertimento andavo gratis in Brera a Milano e accompagnavo i miei amici che suonavano nei locali così per stare in compagnia per bere una birra e questo ha fatto sì che per anni suonavo il repertorio un repertorio vastissimo di tutti i tipi dai cantautori italiani ai pezzi stranieri e quindi quello per esempio mi ha fatto molto molto bene sull'improvvisazione perché certe volte sentivo il giro armonico mi agganciavo facevo delle cose poi imparavo il giro stesso i giri armonici di alcuni cantautori cantanti eccetera erano molto interessanti quindi si allargava anche la conoscenza di accordi nuovi eccetera diciamo che ho fatto una piccola università dal vivo ma l'obiettivo era sempre che bella la chitarra ma quanto mi diverto ma quanto è bello dedicare tempo alla chitarra poi quando c'è stato le prime partecipazioni nelle band milanesi e poi l'arrivo negli Estorietese è stato Elio Estorietese che ha dato potenziale a tutti e quattro di fare il salto perché era l'unione di questi musicisti che aveva creato una somma di potenzialità e tutti abbiamo deciso che si fa ci proviamo però non dico niente a chi mi dice non ha tempo se non hai tempo forse hai altre priorità beh certo sì sì e imparerai la chitarra a un certo livello piuttosto che un altro chiaramente ci vogliono dei sacrifici e soprattutto la chitarra se nella testa uno ha già lì dei chiare e canta le canzoni improvvisa nella sua testa ed è bravo poi si accorge che lo step successivo è la meccanica cioè riportare su questo quello che hai in testa e qui queste devono andare devono allenarsi sì tra l'altro mi è venuto in mente per esempio adesso che io la maggior parte della pratica con la chitarra l'ho fatta quando andavo ancora a scuola ovviamente cioè il grosso del lavoro diciamo l'ho fatto prima quindi uno può dire vabbè ma all'epoca avevi tempo ovviamente sì però c'è anche da dire che io per esempio una volta che avevo 14 anni sono andato a un concerto ai Dream Theater che è stato tra l'altro il mio primo concerto grosso a cui sono andato e tornando questo concerto era abbastanza distante da dove abito io sono tornato a casa tipo verso le 3 di notte il giorno dopo dovevo andare a scuola ma come facevo io e con la chitarra elettrica spinta esatto come facevo esattamente io cioè più ma oltretutto invece di demoralizzarmi perché immagino che quando vedi un Petrucci che suona dici dove appoggio per un attimo le mani come feci io quando senti Van Allen le prime volte quindi però invece se io non sono un chitarrista rosicone che ha l'invidia degli altri io vado a mettere dei commenti ai miei colleghi sono contento forse coscio anche di non mi devo tutto sommato lamentare comunque faccio parte di una band stimata e qualcosa di buono ho fatto e quindi non mi sono mai vabbè a chi piace per chi piace ho fatto qualcosina diciamo che non mi sono mai fatto abbattere anzi quando vedevo qualcosa di assolutamente che mi toglieva il fiato per un attimo rimanevo chi sono io e invece poi torni a casa e dici no perché scusa ci posso provare questa cosa l'avevo già raccontata una volta che avevo detto infatti io ero andato anche con un bassista il bassista ha detto ok butto il basso nel forno esatto e io invece ho fatto l'opposto adesso ti faccio una domanda un po' filosofica sì anche se forse mi hai già risposto adesso però volevo chiederti è una domanda che ho fatto un po' di personaggi ma cos'è per te la musica se è più un lavoro se lo vedi più come il tuo destino o come un'enorme passione diciamo che è un po' quello che hai anche detto adesso però volevo farti un po' tirarti fuori un po' di emozioni da questa cosa nel senso che sicuramente per te è una cosa importantissima beh come tutte le passioni che poi si trasformano in lavoro magari la passione scema un po' nel senso non è così un amore immagino chi esce dall'ufficio e non vede l'ora di fare il torneo di tennis invece magari il tennista che lo fa di lavoro anche se ha una vita agiata e guadagna bene però magari non vede l'ora di staccare ma come credo tutti nella propria professione poi noi siamo dei privilegiati tutti quelli che fanno una professione che implica arte o divertimento o sport se raggiunge dei livelli alti è un privilegiato e quindi comunque non avrà mai questa pesantezza certo ogni tanto mi viene voglia faccio delle sfuriate di chitarra anche fino al mattino e ogni tanto faccio altro faccio modellismo che è una delle mie tante passioni oppure gioco oppure mi dedico alla mia compagna ai miei figli e alla vita normale dico solamente che quando una cosa diventa un lavoro diventa meno passionale la cosa anzi certe volte uno potrebbe dire però guadagni dei soldi io certe volte invece sparo delle cifre proprio per non fare dei lavori che non mi piacerebbe fare cioè mi piacerebbe sempre tenere una specie di virginità artistico chitarristica in modo che uno non guarda su youtube oh mia ma con chi è andato a suonare ecco queste cose qui non vi darò mai chi però ho sparato cifre imbarazzanti per non poterli ogni giorno essere in turno con quello o quella ok c'è una cosa un'altra cosa che probabilmente è forse anche il motivo per cui a me piace tantissimo il tuo stile il tuo modo di suonare sicuramente tu hai come cioè parole tu hai rubato molto anche da Brian May giusto? beh mi piace mi piace un chitarrismo che canta cioè che ha delle note anche che sono melodiche che sono cioè mi piace quella solo che è veramente una parte musicale senza testo ma che prosegue e quindi Brian May è uno dei più grandi diciamo interpreti di questo stile che mi piace come mi è sempre piaciuto Sant'Ana e tutti quei chitarristi che sono molto molto attenti a mettere delle belle notti insieme anche Peter Frempton per tanti aspetti ma anche un Andy Timmons che quando vuole schiaccia l'acceleratore e va a 300 all'ora e in altri momenti invece è super gustoso super melodico mi piace la chitarra poche notte tanta resa più che il contrario mi sembra più mi sembra di poter dire con le dovute insomma chi capisce assorbirà bene la mia riflessione cioè mi sembra di poter dire che certe volte è più difficile mettere insieme quelle 4-5 note giuste che fanno gol piuttosto che fare una Lix che ormai si è ben ben imparata e non diventa una ricerca ma diventa una cosa un automatismo che si ha fra le mani e basta credo che sia una cosa un po' comune in tutte le cose e che togliere è sempre più difficile che aggiungere tra l'altro ecco io per esempio avevo notato molto questa tua cosa per esempio secondo me il ritornello di uomini col borsello è molto preso da uno stile di Bramay perché c'è quella parte che come lui per esempio fa delle notte singole misto ad accordi quando c'è sopra il cantato ma soprattutto perché mi è sempre piaciuto muovere la ritmica cioè mi è sempre piaciuto invece che tenere degli accordi magari hai la percezione della linea armonica però magari l'accordo è più suonato è più arpeggiato non so mi viene in mente che appunto questo è un la anche se si muove oppure quando non so se fossi figo se non avessi insomma creato una ritmica del genere sarei mostrati davanti una canzone di stile fidardi e io non l'avrei riconosciuta in questo momento probabilmente mi annoiavo e quindi bellissimo tra l'altro mi sono appena reso conto che mi sono dimenticato di dire il perché tipo siamo qui ma per esempio dopo registreremo un altro video che andrà come bonus in un futuro corso di ritmica che lanceremo su chitarra facile più avanti grazie mille però questo è già un anticipo esatto anche perché tra l'altro parleremo in profondità di queste cose che è molto importante perché io dico sempre quando introduco l'argomento chitarra mi ricordo che da ragazzino quando c'era una band con due chitarristi all'interno quello scarso faceva la ritmica e quello bravo faceva i suoli forse è meglio approfondire appunto in tanti casi cos'è una ritmica che non è sempre questo anche perché per la maggior parte del tempo anche il solista fa ritmica quindi esatto e deve saperla far bene perché poi a un certo punto accompagnerai e accompagnare è una cosa importante che dovrebbero sapere tutti bassisti e batteristi soprattutto ma quando sei entrato negli Elio e le storie tese tra l'altro c'era Elio che suonava la chitarra ma te hai mai pensato di fare qualcosa adesso magari faccio una gaffe e l'hai fatto ma hai mai fatto un disco solista da no me l'hanno chiesto sempre non vedo l'utilità io sono umilmente conscio delle mie possibilità ma è anche del mio poter trasmettere quindi chi se ne frega lo dico sinceramente chi se ne frega di un disco di cesareo con tutto rispetto vedo tantissimi miei colleghi magari lo fanno anche per un proprio appagamento ma poi cosa ti porta già i dischi non si fanno già i dischi non si fanno più anche in maniera solida adesso è tutto piattaforme ma poi per fare forse qualche migliaio ma se va bene ma e poi a cosa serve cioè non c'è bisogno che faccio il disco guarda veramente vieni da me e ti faccio vedere tutto quello che vuoi e ti suono tutto quello che vuoi io penso sempre di essere un chitarrista più adatto a un'espressione corale con gli altri infatti se vado a sentire un chitarrista bravo da solo per un'ora e mezza anche se è bravissimo devo dire che dopo un po' è pesante lo dico da fruitore di musica io penso sempre che la band a un certo punto dia spazio a tutti io ce l'ho negli elestretesi ed è piacevole sentire i momenti di ognuno invece poi quando focalizzi tutto su te stesso dopodiché basta io quando stavo scrivendo quando stavo pensando a questa domanda mi sono anche risposto da solo tipo mi sono detto probabilmente lui crede di dare il proprio meglio a livello artistico all'interno di un contesto più completo probabilmente non so no no è così mi sento più a disposizione di un progetto di una musica che comunque non mi vede assolutamente protagonista io suono con altri tre musicisti in una band che si chiama Four Tiles dove c'è Stefano Xotta che conoscerai per forza di cose Roberto Gualdi batterista turnista di italiano fino a poco fa o ancora adesso con la PFM questo c'ho poi Guido Bloch che è un cantante tedesco bassista che anche lui insegna fa c'è lo studio è una band dove io sono uno dei quattro a pari proprio cioè perché voglio divertirmi anzi voglio togliermi il peso di la band di Cesare o no si chiamano Four Tiles e sono quattro musicisti anche quando faccio la notte delle chitarre che mi diverto a vedere un po' di di livelli io dico sempre ragazzi a me non me ne frega niente di suonare per ultimo anzi suono per primo ma no dai no tu devi stare per un ma che io suono per primo anzi almeno suono che hanno ancora le orecchie belle pulite hanno voglia di ascoltare la chitarra così nessuna velletta protagonistica ma è dato che cogliere delle storie tese è una storia che va avanti da una vita di tempo ma come come si fa ad avere gli stessi compagni di viaggio per così tanti anni perché la musica è una cosa che ti mette nelle condizioni di dover migliorare anche personalmente a livello caratteriale perché se no non basta saper suonare basta non vedersi mai al di fuori della musica ma vero se tu pensi che la nostra carriera inizia a dicembre 1989 e fino al concerto d'addio di tre anni fa o due anni e mezzo fa non mi ricordo neanche più noi siamo sempre stati in giro a suonare a fare una tournea a fare delle cose quindi siamo stati più insieme noi fra noi che con i nostri cari perché poi alla fine fai le somme del tempo vero del tempo netto ed è così quante volte sono andato al cinema con Elio zero al cinema con Faso zero cioè magari per un compleanno così ci si trova ma assolutamente vacanze ognuno imposti all'inizio forse abbiamo fatto una vacanza insieme per caso ma dopodiché certo c'è sempre il diciamo il sentirci che tutto vada bene che stiamo bene che per l'amor di Dio però la musica è già sufficiente anche perché dunque ti appaga anche come passatempo nel senso quando fai un tour è la cosa più bella del mondo scherzi ridi noi poi siamo veramente dei super cazzoni sempre e quindi cioè perché già vivi questi bei momenti andare a cercarne altri cioè finito il tour non telefonano gli altri ragazzi quando ci vediamo è così che vai avanti ottimo ok allora chiudiamo questa prima parte di l'intervista prima di passare per la lezione che sarà messa all'interno del corso ti volevo dire questa cosa e adesso perché ti ho preparato una sorpresa cioè una sorpresina per me in realtà non per te allora tipo essere donna oggi e uomini col borsello sono a soli che sono venuti alla prima giusto? sì e tra l'altro avevi raccontato anche da Marco Fantoni Feiezze ti aveva detto cioè tu eri sfinito e ti ha detto no fallo lo stesso sono quasi simile nel senso che te la faccio brevissima e uomini col borsello era stata una giornata stressante per mille cose e anche lavorativamente quindi nel momento in cui avevo finito e messo via la chitarra proprio la custodia dico Paolo da casa perché no no dai ma perché non ci spari una sola Paolo non ce la faccio più ma dai dai metti su un suono e avevo uno zoom il primo zoom che uscì che era un apparecchietto nero col display digitale che aveva anche le guide per metterlo alla cintura proprio il primo zoom quindi io accendo lo zoom lo zoom grosso così metto un suono che mi ricordo poteva essere dignitoso attacco la chitarra diretto tra l'altro diretto nel mixer nell'SSL tac così faccio spengo e vado a casa senza cioè mi avrebbero potuto c'erano le lire se mi avessero detto ti do un miliardo suonami almeno le prime tre note di quel solo non avrei guadagnato un centesimo torno il giorno dopo verso dopo pranzo che c'era feiezza che aveva già impostato tutto lui quando era soddisfatto si tirava dietro la coda e si preparava adesso vedrai senti cosa hai fatto pirla tratta e tira su e c'è il solo di uomo che effettivamente dico bello mi piaceva istintivo cioè proprio la disperazione del lo faccio e me ne vado però ovviamente non è che lo prendevo per il culo l'ho fatto con intenzione ma talmente stanco e talmente che non mi ricordavo niente sono quelle cose che racconti e non ci credi come le storie tese chissà che robe un filmino così lo zoom alla faccia della ricerca del suono esatto della sperimentazione era la ricerca di dove andare a mangiare quella sera quindi voglio essere donna oggi è ancora più bella più bella per l'immagine del Feyetz che era veramente un talento c'era questa box con le vetrate in studio Psycho con una credo una testata soldano all'epoca perché forse Maurino di Lucky Music che mi aveva dato un paio di cose da tenerli da provare eccetera e anche lì c'è il giro finale di essere donna oggi e anche lì il Feyetz però ero già meno stanco sarei andato a casa ma in quel momento ho detto ma dai facci un solo faccio un solo ho appena spento la testata lascio appena allora lui mentre va al nastro fa questa cosa prende il mio cavo dalla chitarra corre nel box apre le vetrate accende la testata soldano e attenzione regola secondo visivamente cosa poteva pensare sarebbe uscito e parte il solo il mio solo con quel suono che sentite fatto a memoria fatto visivamente da Feyetz alla prima un punto così e anche lì sono quelle cose che poi non rifaresti mai perché è bello così istintivo naturalmente negli anni parte sempre quella traccia poi lo miglioro lo chiudo meglio ci ricamo su però diciamo che la ratice sono sempre quelle sia per Borsello che per essere donna sono sempre quei soli lì tra l'altro ultimamente ho fatto un video spiegando lo storytelling della solo di No More Tears di Ozzy Osbourne di Zack Wilde ovviamente che anche quello è stato più o meno è successa una cosa simile a questa e anche Beated tra l'altro di Van Allen è stata la prima cosa che lui ha fatto e Michael Jackson è entrato ha ascoltato ha detto no no teniamo questa e quindi la cosa migliore da fare è quando siete sfiniti registrate però io ma a sottolineare questa esperienza dico sempre ai ragazzi cioè io cerco di insegnare di costruire una solo con un po' di criterio con un po' di testa ma la prima cosa che dico come faccio io non fermate mai l'istinto cioè io quando scrivo una solo la prima cosa è voglio sentire che cosa mi viene quindi una traccia è sempre spensierata suono e suono a seconda di quello che sto sentendo senza tanti ragionamenti poi magari vado a prendere qualche momento bello e lo proseguo magari invece con una scrittura cioè devo dire che l'unico ha solo veramente scritto a tavolino perché volevo fosse una solo di quelli che si ricordano è stato Tapparella perché l'ho voluto io cioè mi sembrava talmente bello l'ambiente volevo una solo che partisse che fosse arioso bello largo e c'entra che non doveva essere assolutamente mo parto e vistendo tutti al contrario in più la tonalità se ne va a quel paese quindi non è uno di quegli assoli dove siamo in mi e stiamo in mi no e quindi seguendo gli accordi poi anche lì ho fatto tesoro del fatto di quanto è bello improvvisando tenere conto anche degli accordi che compongono un giro ecco e Tapparella è proprio quello ecco e la cosa che non ti avevo accennato prima che per te è una sorpresa che intanto sei abbastanza stanco adesso cioè perché ti devo fare un solo memorabile esatto perché il mio in realtà il mio sogno è accompagnarti finché fai la solo di uomini col borsello allora io non so se tu hai già una base senza chitarra eccetera però io mi sono registrato tipo un minuto e mezzo due minuti di batteria basso fai tu io ci metto sopra gli accordi distorti e tu mi fai una solo sopra va bene certo ma volentieri allora organizziamoci e che la latenza ce la mandi buona allora facciamo così grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie mille, grazie mille veramente È stato super emozionante Piacerissimo Io ringrazio te, ringrazio te anche perché io te l'ho detto Sono un tuo estimatore A me piace la gente che fa le cose con passione Si vede che hai molta passione E soprattutto sei efficace perché parlano bene tanti di quello che fai Evidentemente rendi la chitarra facile anche se non sempre lo è Però cerchi di dare delle letture molto interessanti A me piace Grazie mille Ti voglio bene Adesso posso anche smettere Ricordiamo ovviamente Cesario.academy La Cesario.academy per chi volesse prenotare una lezione con Cesario, Davide Poi speriamo anche di riuscire a far l'impresa Esatto Il momento online poi comunicherò la possibilità di avere a che fare a quattro occhi E a due mani con me Ottimo E poi ovviamente adesso io e Cesario registreremo delle lezioni sulla ritmica Proprio andremo ad analizzare dei pezzi degli Elo e le storietese Che hanno delle ritmiche particolari interessanti Andremo a sviscerare un po' tutti i segreti Proprio come bonus per quel corso che arriverà probabilmente questa estate Insomma Grazie, grazie mille di cuore Grazie a tutti Ciao ciao Ciao